Mister, che partita è stata dal suo punto di vista oggi? Sapevamo che era una partita molto difficile, complicata, perché giocavamo contro una squadra in grande condizione che aveva vinto le ultime tre partite, una pareggiata, una squadra libera di testa e quindi sapevamo che era una gara molto insidiosa. Secondo me l'abbiamo affrontata nella maniera anche giusta sotto tanti punti di vista. Poi siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo creato occasioni da gol e poi il rammarico è che nella parte finale ci siamo abbassati un po'. Questo secondo me non è tanto determinato da discorsi tattici, ma sono discorsi emotivi, sono discorsi nervosi. Logico che stai cercando di portare a casa una vittoria che sarebbe stata pesantissima nell'economia del nostro campionato, di questa rincorsa e quindi subentrano soprattutto questi aspetti. Purtroppo c'è stato anche un tiro a una posizione defilata dove probabilmente c'è stato sicuramente qualche errore ma anche una deviazione decisiva. Quindi da questo punto di vista è logico che in quel momento lì si poteva far meglio, però ripeto, adesso la cosa fondamentale è quella di immediatamente, al di là della delusione del momento che sicuramente c'è, quella fondamentale è rialzare immediatamente la testa, recuperare energie fisiche, nervose e sperare chiaramente questa settimana di recuperare qualche giocatore per andare a giocarci l'ultima partita. Per arrivare a giocare questa partita appunto è arrivato un punto oggi che ha mosso la classifica, il Verona ha agganciato lo Spezia, davanti c'è una settimana per preparare la gara di Milano e dare tutto anche in quella partita. Assolutamente, perché è logico che prendere un gol così, ripeto, fa vedere tutto nero e cancella tutto quello che è, però, come hai detto tu, un punto oggi ci consente di raggiungere lo Spezia e quindi andare a pari punti, c'è da giocare gli ultimi 90 minuti, proprio per questo, come ho detto prima, bisogna assolutamente recuperare per andarci a giocare tutte le nostre possibilità nella prossima gara.